Nelle case di riposo dove si vive il dramma dei tanti decessi collegati al coronavirus, da più di un mese le visite agli ospiti sono state sospese. Una situazione di isolamento dettata dalla necessità di proteggerli dal rischio di contagio che accresce il disagio morale e psicologico degli anziani, privati della possibilità di incontrare i loro cari e di riceverne conforto. In aiuto di questa fascia fragile della popolazione, oggi più che mai esposta ad una condizione di vulnerabilità, la Banca Popolare di Sondrio ha deciso di dotare tutte le 20 RSA della provincia di funzionali tablet che permettono di mantenere attraverso lo schermo il contatto visivo e il dialogo con i propri familiari. Proprio in una situazione così critica, nota l'Istituto di Piazza Garibaldi, la connessione virtuale evidenzia la sua validità al fine di garantire la continuità dei rapporti sociali a distanza. La videochiamata da tablet dal figlio o dal nipote diventa per gli anziani un prezioso strumento che stempera la loro solitudine. Un'iniziativa di forte valenza sociale, un gesto di vicinanza e solidarietà che BPS ha voluto realizzare con l'intento di agevolare ospiti e operatori delle strutture nella comunicazione col mondo esterno.